però trape che tu dico io comba 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 si ci va a Monsemua era diverso comunque ma non lo sapendo comba è Monsemua non lo sapendo eeeh comba comba ha presenza e potenza ma cheGv, che dove c'è colossione la c***lla? è una c***lla교 ancora c'era l'andovirus ancora non CI che si trovare ad una c***lla che è inconscienza che si trovare ad una c***lla che è una c***lla non ci può GameNepo non ci Voce, non un vaccino Io sto cercando di farla crescere questa cosa, di farla crescere, crescere economicamente, crescere, deve crescere questa cosa e credimi, tra il tuo appoggio e chi dica io giusto perché rispetto a te sono più libero, devo farla crescere questa cosa, è una soddisfazione che io mi devo prendere, infatti oggi mi viene a trovare un amico che mi porta un panettone, denaro, ci disse che l'anno venente ti voglio vicino, chiuso, quando uno vede davanti ci chiedesse un toro e una pecora c'è quale forza sceglie tu, io gli ho detto che hai dato un toro e allora c'è la sala c'è la pecora. Spero che il signor Russo ne metta su mano di me la vengordo e qua ne fa proseguire. persone onesti, sofferenti in un modo o nell'altro, il signor Russo è una mano a un capo di novità, questo è un po' come il cuore. La mia, una favuzza si sparta a metà con l'amico mio, la pegnata in capo come la metto io, la metto l'amico mio, come la metto l'amico mio, la metto io. Ma non c'è niente, ma perché va a finire, lo sa la miseria, quando c'è miseria in un territorio, può succedere di tutto, di tutto e di più. C'è avvocatessa, siamo noi, la Sicilia è una terra desolata, è una terra di miseria, mentre una volta, un pochettino, anche se c'era la miseria, c'era, ora si formeranno situazioni di piccolo banditismo che sarà micidiale, queste nascono per natura, no? Lei le ha presente lo carciofo, sa come si coltiva il carciofo, quando d'una una stappata e tira lo carciofo e non ceccio lo carciofo, ci sparano tutte, sparano le carduna, ogni carciofo si vede che fa 20 carduna, così è la cosa, quando non c'è un... un buon senso, diciamo, ragionevolezza, ognuno poi ragiona a conto suo, quando non c'è punto di riferimento di... Ah, ragione, questa cosa del carciofo ora la utilizzo io. O si indirizza una società verso... o se no ognuno va per conto suo e non si capisce c'è niente, no? Ci vuole un minimo di organizzazione sociale, no? Chi la va a fare? Che cosa va a pigliare questa briga di un'organizzazione sociale? Lo Stato... No, a noi ci hanno macellato, perché poi è vero che ci hanno lasciato le cose brutte, ma ci hanno lasciato anche le cose a favore della società, no? È un insieme di cose, no? Quando si può pigliare lo bello, lo solo lo bello, anche lo brutto. È così, la vita è complessa, le situazioni sono complesse, non è che c'è niente di facile. Non l'ho capito a chi cazzo si riferiva, perché tutta una volta è uscito con questa cosa delle copacce del carduno. Però stavamo parlando della fronte del genere della sigilia. Grazie a tutti.